Porta a voi, Polizia Nazionale Timor-Leste, Superintendente, Sefi Arnaldo Arrozo, li giusti conferenze in prensa e informa, suspeito da caso tentativo omicidio nebbe ma che accontesse in area Campun Merdeca Sucu Cumoro, resulta vittima o figlia di Asmaria Lopes Cane che a parte rentosa, da da un'esuspeito detenone e se la detenzione caicoli di Dili durante ora sito nulla resta in rua, molo che appresenta via Tribunal Distrital Dili, ho detto il primo interrogatorio. La aldeia Moris Fong, Comoro Campo Baru, l'incidente di Nbemmo Musihenova, l'incidente di Tambadeit Amor, l'incidente di Domi, nebbe, resulta vittima o figlia di Asmaria Lopes Cane. L'incidente di Nbemmo Musihenova, l'incidente di Tambadeit Amor, l'incidente di Domi, e l'incente di Nbemmo Musihenova, l'incidente di Domi, antivostiai di Dorao Maria Leandania, lo conservato in Fuadilina, poi l'incidente di Nbemmo Musihenova, le conoscisoленo di Domi, e abbiamo parlato ailingtimi ediudici, le chilo di Che più traf remember board state della madre Popa Baru, Grazie a tutti. Grazie a tutti.